Il ciliegino e il datterino di Sicilia sbarcano negli Stati Uniti, grazie agli investimenti del gruppo Libretti che ha siglato un accordo di distribuzione con l'importante catena della grande distribuzione americana HEB che ha sede a Sant'Antonio nel Texas. I prodotti oggetti dell'accordo sono la salsa di pomodorino ciliegino datterino, il pomodorino semi-dry e la caponata siciliana. Già presente in numerose catene della grande distribuzione organizzata internazionale, il gruppo Libretti dispone negli Stati Uniti di due piattaforme distributive, rispettivamente a New York e a Houston. Il nuovo accordo pone le basi per il rafforzamento del processo di internazionalizzazione del gruppo che fa leva sullo spin-off Vottega di Sicilia, l'azienda nata nel 2011 per valorizzare i prodotti conservieri del gruppo. Leader nel settore dell'ortofrutta fresca è fondato nel 1930 a Vittoria.